Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 92esima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata parlando di Canonical con due grandi novità che arrivano dal mondo di Ubuntu e che riguardano Ubuntu 21.04, la prossima release semestrale di Ubuntu che verrà rilasciata fra tre mesi, quindi ad aprile 2021. La prima novità riguarda una notizia che ha rilasciato in molti delusi, me compreso, ovvero riguarda il mancato arrivo di Gnome 40. Gnome 40, come ben sapete, la prossima edizione, la miglior release di Gnome, verrà rilasciata a marzo 2021, quindi si faceva a tempo, così come da tradizione, a includere la nuova versione di Gnome all'interno della release semestrale intermedia di Ubuntu. Bene, purtroppo questa volta non sarà così perché il team di Ubuntu ha deciso di procrastinare l'aggiornamento a Gnome 40 per la prossima avventura release semestrale, ovvero per Ubuntu 21.10. I problemi quali sono? Perché si è deciso di fare questa scelta e perché si è deciso quindi di rimanere per Ubuntu 21.04 su Gnome 3.38. Bene, i motivi sono vari. Come ben sapete, fra le principali novità di questa nuova versione di Gnome troviamo la GT4K ed un nuovo design delle shell che andrà a impattare in maniera significativa sull'esperienza utente. Ubuntu sin dal 2011 utilizza un layout con un lanciatore applicazioni posizionato sulla parte sinistra dello schermo, mentre il nuovo layout della shell di Gnome 40 prevede un lanciatore posizionato nella parte bassa dello schermo con un design dell'animazione e la gestione dei desktop virtuali che si concentra sul piano orizzontale. Adattare quindi tutto all'esperienza di Ubuntu significa dover riadattare anche le varie estensioni che Ubuntu utilizza attualmente per personalizzare la propria interfaccia grafica. Oltre a questo le nuove GTK 4 introducono delle modifiche che andranno ad impattare anche con il tema Yaru. Quindi, inducisi in fondo, poi ovviamente le GTK 4 sono appena uscite, quindi sono di prossima uscita, quindi sono nuove e ci sono i consueti problemi di stabilità tipici dei nuovi rilasci. Per questi motivi il tema di Ubuntu ha deciso di non effettuare il passaggio di GTK 4 Gnome 40 per Ubuntu 21.04 e quindi di rimandare la decisione a Ubuntu 21.10. Brutta notizia, brutta notizia per me è una brutta notizia, per quelli che sono amanti della stabilità di sicuro sarà una notizia positiva. L'altra notizia riguardante Ubuntu 21.04 riguarda la decisione da parte del team di sviluppo di Ubuntu di provare a passare a Wayland per impostazione predefinita. A comunicare è stato Sebastian Parker, ingegnere di Canonical, su uno dei siti ufficiali di Ubuntu. La decisione giunge a 4 anni dal precedente tentativo perché, se vi ricordate bene, durante il ciclo di sviluppo di Ubuntu 17.10 si era già provato a utilizzare Wayland come sessione predefinita per esempio per un gran successo. Sapete, ci sono alcuni bug, o meglio, c'erano alcuni bug bloccanti, c'è sempre il solito problema di chi utilizza i driver proprietari Nvidia e insomma ci sono diverse cose che andavano sistemate. Però adesso, da allora, sono passati diversi anni, le cose sono migliorate e alcuni dei bug che erano stati considerati bloccanti sono stati risolti. Gli sviluppatori credono che, quindi, che sia giunto il momento opportuno per provare nuovamente a impostare Wayland come sessione predefinita, ovviamente sarà ancora presente X.org e l'arrivo di questa opzione, di questo default, su una versione semestrale dovrebbe consentire al team di Ubuntu anche di avere abbastanza tempo per testare il tutto prima del rilascio della prossima LTS, quindi in modo da avere un feedback adeguato e risolvere i problemi prima del rilascio della prossima versione con supporto esteso. Dato che il team di Ubuntu ha deciso di non aggiornare la versione di Gnome, come ve l'avevo detto poc'anzi, beh, gli sviluppatori avranno meno lavoro da fare e quindi si potranno concentrare sulla migrazione a Wayland in teoria dovrebbe essere più facilitato il lavoro per loro. Gli utenti che, come me, utilizzano una scheda video in video con driver proprietari per ora utilizzeranno ancora X.org e si spera che questa situazione venga risolta più presto prima dell'arrivo della prossima versione LTS perché qualcosa si sta muovendo in tal senso e dovrebbero essere compatibili i driver proprietari Nvidia anche con Wayland fra non molto quindi incrociamo l'editina se tutti quanti che noi ansiosi di provare Wayland anche con i driver Nvidia. Dopo aver parlato del piedone, adesso parliamo dei Dextro Performing, quelli seri, quelli belli da nerd, perché ti consentono di andare a spucciare, di personalizzare ogni cosa. Sto parlando ovviamente del caro e amato KDE Plasma. La community di KDE ha annunciato il rilascio della beta di Plasma 5.21, la prossima versione di Plasma che verrà rilasciata in forma stabile il prossimo 16 febbraio 2021. Tra le altre cose ha introdotto diversi miglioramenti nel design, negli utility di sistema e nei temi di Plasma, con l'obiettivo di fornire agli utenti un ambiente più piacevole ed accessibile. Di KDE Plasma 5.21 viene operato sia nell'articolo dedicato su Marcosbox, sia in un video che trovate sempre su Marcosbox, ma anche sul canale YouTube, nel quale vi faccio vedere una video anteprima di tutte quante le principali novità. Che ricordo, per sommi capi, quali sono? Adesso abbiamo un nuovo lanciatore applicazioni, dei miglioramenti nello schema di colore delle applicazioni, che risolvono finalmente il problema del tema di Firefox con KDE Plasma, quando si impostava Firefox con la barra del titolo nascosta, questo è una fisima mia, una vecchia cosa mia, però sul video che trovate sul blog capirete meglio il bug, capirete perché io lo odiavo proprio in una maniera, sentivo il questione di pelle, diciamo così. Abbiamo un nuovo tema, che poi il tema non è perché di fatto è soltanto il cambio e il coro della barra, che è chiamato Breeze Twilight, perché lo pronuncio in crisi perché in italiano sono troppe R e mi incarto come un deficiente. Poi abbiamo la nuova applicazione Plasma System Monitor per il monitoraggio delle risorse di sistema e abbiamo anche tanti miglioramenti con CoreWireland, quindi che fa piacere sentire che anche KDE sta migliorando sotto questo punto di vista. Poi abbiamo qualche modifica dell'impostazione di sistema e l'applet media prelie che è stato migliorato. Su Marcosbox, ripeto, andate, mi incarto pure a dire il nome del mio sito, vabbè, diciamo, su Marcosbox trovate maggiori informazioni nell'articolo dedicato con una serie di screenshot e se preferite trovate anche questa piccola video anteprima sul canale YouTube e sempre su Marcosbox nella quale vi faccio vedere tutte le varie cosine carine che sono state, che troveremo sulla prossima versione di Plasma, su Plasma 5.21. Per essermi incartato pronunciando il nome del mio stesso blog, trovate un altro blogger capace di fare una cosa del genere, sono scandaloso. Ho deciso di lasciare il pezzo proprio perché per farvi capire che faccio tutto in presa diretta. Parliamo adesso di una cosa molto interessante, parliamo adesso del rilascio di Firefox 85. Mozilla ha annunciato in settimana il rilascio della versione 85.0 di Firefox. Questa nuova versione del browser della Resistenza, perché ormai è l'unico browser veramente alternativo, compie un ulteriore passo avanti nella lotta ai tracker. Adesso questa nuova versione è in grado di proteggerci dai super cookie, un tipo di tracker che possono essere utilizzati a posto dei normali cookie per memorizzare gli identificativi dell'utente per seguirci in grado lungo il web anche se abbiamo cancellato i normali cookie. I super cookie sono molto difficili da bloccare ed eliminare rispetto ai normali cookie. Nel corso degli anni sono state trovate, è stato capito il meccanismo di come funzionano e Firefox ha portato alcune modifiche alle sue impostazioni in modo tale da bloccare la capacità, eliminare la capacità di questi tracker di seguirci sul web. L'altra novità di Firefox 85 riguarda la gestione dei segnalibri. Adesso Firefox ricorda la posizione preferita dei segnalibri salvati. Infine troviamo una migliore gestione delle password che ci consente di rimuovere i nostri accessi salvati con un singolo clic invece di dover stare a eliminare ogni singolo accesso individualmente ed uccisi in fondo una delle cose che potrebbe non importare a nessuno tranne ai cinesi e al loro sistema ferroviario ovvero il fatto che Firefox 85 non supporta più Adobe Flash e non è nemmeno possibile riattivare il supporto a Flash dalle impostazioni quelle avanzate. Che dire, Flash non ci mancherà se è stata la principale causa del suo riscaldamento globale dopo i clorofluorocarburi. Restando in ambito web troviamo una notizia davvero interessante che farà felici sia i professionisti che anche tutti quanti gli utenti che si direttano di tecnologie web. Avere una documentazione tecnica di alta qualità è fondamentale nel mondo delle tecnologie, specie nelle tecnologie web. Per venire in conto a queste esigenze è nato OpenWebDocs. Un collettivo aperto, creato in collaborazione tra Google, Microsoft, Mozilla e altri partner fra i quali troviamo anche ad esempio Samsung che ha uno scopo. Quello di supportare economicamente una comunità di scrittori tecnici che si dedicheranno alla documentazione degli standard web indipendentemente da qualsiasi singolo fornitore o organizzazione. Piuttosto che creare nuovi siti di documentazione se ne fa uno, OpenWebDocs, che si impegna a migliorare le piattaforme esistenti fornendo i vari contributi e quindi migliorandoli. La priorità per il 2021 include la collaborazione con gli scrittori e gli ingegneri di MDN di Mozilla per supportare la recente transizione dell'infrastruttura e per dare priorità e andare avanti così nel lavoro di documentazione, sviluppare la comunità di collaboratori e miglioramento della documentazione di JavaScript. Quindi per un internet migliore, se così si può riassumere questa nuova iniziativa. Infine, come ultima notizia di questa settimana, vi voglio parlare di Visual Snow Relief Overlay, un'applicazione open source per computer che va ad aiutare le persone affette dalla sindrome della neve visiva. Questo è un progetto che ho scoperto per caso su Reddit, navigando qualche giorno fa e che trovo davvero interessante e meritevole di essere portato alla più ampia conoscenza possibile, anche perché è lo sviluppatore da solo e quindi cerca aiuti per migliorare la sua applicazione. Il progetto in questione è stato avviato da Francesco Belvedere, un programmatore italiano che, dopo un commento su Reddit di una persona affetta da questa sindrome, ha iniziato a indagare e ha iniziato a studiare il fenomeno, ha iniziato a studiare questa sindrome e ha deciso di mettere al servizio delle persone affette da questa sindrome le sue conoscenze informatiche per cercare una soluzione digitale. La sindrome della neve visiva è una condizione per cui alcune persone vedono dei puntini bianchi e neri in una parte o nell'intera area del proprio campo visivo. È come l'effetto che è visibile nelle vecchie tv, quella a tubo catodico, di rumore video dopo la fine di una trasmissione. Molte persone affette da questa sindrome hanno confermato che guardando un video di uno statico divisivo possono successivamente vedere chiaramente per svariati secondi e quindi avere una soluzione di soglievo anche nella vita quotidiana. Altre persone addirittura dicono che dopo aver guardato un video di uno statico divisivo per lunghe sessioni riscontrano miglioramenti nei sintomi della loro sindrome. Ebbene, che cosa ha deciso quindi di fare Francesco? Semplicemente ha creato un'applicazione per Windows, Mac, Linux disponibile gratuitamente con licenza GPL quindi liberamente scaricabile, open source, cross platform sviluppata in Electron più UE che va praticamente a porre un filtro per computer in grado di sovrapporre uno statico allo schermo. Lanciando questa applicazione avrete questo statico e le persone affette da questa sindrome dopo aver provato questa applicazione hanno asserito di avere dei notevoli miglioramenti. Tant'è vero che Francesco è stato anche contattato da un'associazione che si occupa delle persone affette da questa sindrome. Se volete contribuire potete contribuire su GitHub ma potete contribuire anche con un supporto economico nella pagina crowdfunding che Francesco ha deciso di aprire. Andate a dargli uno sguardo, su Marcosbox trovate maggiori dettagli, trovate i link, trovate maggiori approfondimenti su questa sindrome. Condividete. Se siete a conoscenza, se avete la capacità di programmare e se siete a conoscenza di questa sindrome per qualche familiare o magari siete anche medici interessati a questa malattia, ad approfondire questa malattia, ad aiutare nello sviluppo di questa applicazione, contattate Francesco e trovate appunto tutti i dettagli sulla pagina di Reddit che è un linkato nell'articolo su Marcosbox. Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 92esima puntata del podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci rivediamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast più amato a tutti i pinguini d'Italia. Ciao ciao!